Ragazzi, la Roma con le piccole non si smentisce, oggi batte un Udinese 3 a 0, stravince contro un Udinese che se vogliamo nelle ultime gare ha parigiato con Atalanta, con Inter, ha vinto con l'Elas Verona, quindi un Udinese che ha fatto tantissimi punti con delle squadre molto alte in classifica e della ripresa, però la Roma con le piccole vince ragazzi, vince, fa punti, una Roma che comunque con questa vittoria si riporta al terzo posto superando noi a più uno, è vero noi abbiamo sempre la partita da recuperare contro Napoli, però per il momento la Roma è lì, sta lì di nuovo, terza in classifica, una Roma che comunque ti fa pensare anche che è una scuola lunga ragazzi, ha una panchina lunga la Roma rispetto agli altri anni perché a un certo punto verso il secondo tempo tu pensi che in panchina abbiano gente come il Sharawi comprato che il Sharawi può essere un buon acquisto se tornare al Sharawi di un tempo, poi ti entra dalla panchina Pedro, ti entra dalla panchina Zeco, sono cambi pesanti, non è che sono cambi che dici, ha dei bei cambi la Roma, se pensiamo che Cumbulla che è stato l'acquisto più pagato in difesa adesso fa panchina che eventualmente se esce uno entra l'altro, ha dei bei cambi la Roma ragazzi, c'è poco da dire, c'è poco che se vogliamo si è resa pericolosa affacciandosi molto più spesso all'area di rigore ma a livello di conclusioni se andiamo a vedere Paolo Lopez, l'unico intervento buono che ha fatto è stato quello sulla chiusura di De Lofeu ragazzi, perché De Lofeu a un certo punto si trova uno contro uno contro Paolo Lopez, cerca di saltare il portiere ma Paolo Lopez è molto bravo con la mano a togliere la palla in mezzo ai piedi ed evitare questo gol, per il resto poi si un tiro di De Paul da lontano, da fuori aria che la palla esce alta, seguiamo anche la punizione di De Paul, non è uscita di tantissimo, è una buona punizione, però per il resto poca e niente, ripeto ha giocato bene, per me l'Udinese la sua partita l'ha fatta da quella che poteva fare, però non ha inserito più di tanto Paolo Lopez, mentre la Roma ha fatto una bella partita, il primo gol ragazzi è bellissimo, c'è Mancini da difensore centrale, si ritrova a fare il terzino, Fintal cross col drestro, se la mette sul sinistro, cross bellissimo pennellato per l'inserimento di Veretù che di testa anticipa Strighe e Larsen se non sbaglio, è gol del 1-0, Musso non può farci niente lì, bellissimo gol da parte di Veretù, Veretù ragazzi, oggi doppietta, 9 gol in campionato per questo centrocampista che è un signor centrocampista ragazzi, parliamoci chiaro, Veretù forse non viene accostato ai migliori al mondo, solamente perché gioca forse nella Roma, perché se stessimo parlando di un Veretù che giocasse in uno squadrone come Bayern Monaco, Barcellona, si farebbero altre idee, parliamoci chiaro, però Veretù non si discute, è fortissimo, i rigori ragazzi, i rigori del 2-0, sembra che l'Udinese abbia tanto discorso per questo rigore perché Mkhitaryan, sempre sotto Veretù che sulla fascia mette un crosser da su terra verso il centro aria, Mkhitaryan anticipa Musso tirando, la palla nel tirare usciva fuori, Mkhitaryan alla porta non l'aveva mai inquadrato, nell'uscire Musso coi piedi però tocca le gambe di Mkhitaryan, i giocatori d'Udinese sono lamentati perché la palla ormai era fuori, non sarebbe mai entrata in rete, ma il regolamento ragazzi purtroppo è così, nel senso che anche se la palla non è in porta o il giocatore non ci arriva, ma c'è un contatto, prima che la palla esca fuori dal campo, quindi non è più in gioco il pallone, il contatto va visto e va dato il calcio di rigore, abbiamo visto con Quadrado e Ashley Young che Quadrado non ci sarebbe mai arrivato su quella palla, però il contatto c'è stato, prima che la palla uscisse fuori dal campo e l'aveva dato rigore, la stessa cosa ieri Juve-Napoli, Napoli-Juve, Rachmani non ci sarebbe mai arrivato su quel pallone, Shesny aveva già bloccato la palla, quindi quello lì non sarebbe mai stato gol, però Chiellini fa il contatto di rigore, questa oggi stessa identica cosa, Mkhitaryan anticipa Musso, la palla non sarebbe mai arrivata in porta, però ne anticipare Musso viene toccato, la palla non è ancora uscita quando c'è questo contatto, quindi quello è calcio di rigore, vedete tu trasforma, spiazza Musso, vedete tu che comunque anche oggi il freddo su calcio di rigore la butta dentro perché dà sicurezza, vedete tu non sbaglia mai il rigore, è raro che sbaglia il rigore, vedete tu, poi c'è stato anche il gol annullato a Roma, giusto annullare il gol a Roma, bravissimo anche qui Mkhitaryan a dare la palla, vedete tu, sempre il solito vedete tu che con l'occhio vede che sta arrivando il Pellegrini da dietro, gli dà il pallone, Pellegrini di prima, tiro gol, bellissima azione della Roma, però anche qua lì è giusto annullare perché nel coprire palla Mkhitaryan dà un pestone sulla caviglia di Strighe e Larsen, l'abito non l'ha visto, il VAR giustamente lo richiama, l'abito va a vedere il contatto al VAR e giustamente annulla il calcio di rigore, scusate, annulla il gol alla Roma che poi sostanzialmente se andiamo a vedere ragazzi nel secondo tempo per me c'è un rigore solare su Zeko perché Zeko pia posizione a un difensore dell'Udinese che adesso non mi ricordo chi era, fatto sa che per in opposizione corre l'Udinese e lo butta giù, l'arbitro fa scorrere e con il rigore lì non viene dato, per noi con lì già è il rigore, però nel resto gli episodi sono giusti, sono stati giusti sia da parte del VAR che da parte dell'arbitro, a parte il rigore secondo tempo della Roma, ripeto, una Roma che poi anche nel secondo tempo ci ha provato perché comunque ci ha provato, è entrato poi anche Pedro, ripeto, bellissimo sempre Mkhitaryan, positivo, che si inserisce, va via centrale, la palla va a Zeko, Zeko prova un dribbling, nel dribbling comunque si forma una specie di rimpallo che la palla arriva lì bella tranquilla per Pedro che in corsa la piazza con un bel piattone interno che la mette sotto l'incrocio, anche con lì un gol bellissimo di Pedro, è 3-0 ragazzi, c'è poco da dire comunque 3-0, ho meritato della Roma, gli si fanno comunque complimenti, poi la Roma nel secondo tempo ci ha provato anche con Pellegrini su una specie di incursione di testa, testa in tuffo che non era facile, però ci ha provato, però la Roma ha meritato questi tre punti assolutamente, ripeto, l'Udinese ha fatto la sua partita, non ha giocato male, però contro una Roma così in forma è sempre difficile vincere, e niente ragazzi, io direi che comunque il video può finire qua, se il video vi è piaciuto mi ha lasciato un bel like, commentate qui sotto nei commenti, fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate di questa partita, soprattutto anche se ci siete ragazzi, iscrivetevi al canale, condivete il video con i suoi amici e fate iscrivetevi anche loro, noi ci vediamo al prossimo video, quindi per adesso da Ali Bianchi per tutto, bella!